Musica Buondi a tutti! In questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questo completo safari che è formato da uno smanicato lunghissimo perfetto per l'estate e questo pactus anche questo estivo che è perfetto per poter essere indossato nelle sere molto umide soprattutto per chi le ama trascorrere in montagna o in campagna Partiamo però dallo smanicato Per quanto riguarda lo smanicato io ho utilizzato il filato della lana gatto mini a milkshake ho utilizzato questo bellissimo color terra che vedete ha queste sfumature del beige e anche un po' del rosa qui si nota meglio e io adoro queste sfumature per l'estate soprattutto quando uno è un po' abbronzato e per realizzare lo smanicato che come potete vedere è veramente lungo ho utilizzato due cake lavorando con l'uncinetto del numero 5 vi faccio vedere anche l'altro colore disponibile sempre del milkshake che è questo che diciamo che è un colore molto più estivo e più si adatta a vari tipi di outfit soprattutto perché al suo interno ha il viola e il blu, l'azzurro che sono dei colori che sono sempre il must in estate e anche per questo vi dico subito comunque che per chi vuole utilizzare lo smanicato ed è una taglia M o una taglia L vi occorrono 3 cake perché io che sono una taglia S ho terminato di tutto le 2 cake me ne è avanzato un pochettino quindi per una taglia M o L vi consiglio appunto 3 cake taglia L anche 4 cake se volete metterci anche un po' di manica quindi fare una manica oppure se la volete che si chiuda di più rispetto a me quindi in questo caso vi consiglio se siete una taglia L 4 cake se siete una taglia M e volete aggiungerci anche delle maniche potete farlo ma a quel punto dovreste fare lo smanicato più corto quindi se lo volete sempre così lungo e aggiungerci le maniche anche in quel caso vi consiglio 4 cake taglia L se come me anche voi io ho fatto 2 cake ma se volete aggiungerci le maniche dovete per forza acquistare 3 cake altrimenti non ce la fate a meno che non lo facciate più corto allora in quel caso potete aggiungerci delle maniche a 3 quarti per quanto riguarda invece il Bactus non ho utilizzato il milkshake ma ho utilizzato un filato che gli assomiglia molto come sfumature ossia il fantastico gomito della Mistrico Filati che si chiama Malindi che è questo bellissimo colore 01 vedete anche qui i colori della terra che si avvicina molto a quello del Malindi quindi è perfetto come abbinamento ma non lo volevo proprio uguale per questo che ho preferito optare per un altro filato e anche per quanto riguarda la composizione è diversa in quanto il milkshake è formato da un 72% di cotone e il restante è viscosa mentre questo filato della Mistrico è 100% cotone mercerizzato gasato mercerizzato scusatemi ma ha delle sfumature bellissime voglio farvi vedere molte altre ne ho tantissimi ma questi sono sicuramente i miei preferiti a parte quello che ho utilizzato che sono questo sfumato del Lilla l'ho sfumato come potete vedere qui anche questo uno sfumato dai colori della Laguna o abbiamo questo sfumato Oceano ma ce ne sono anche molti altri e vi dico che per poter realizzare questo Bactus mi è servito soltanto un gomitolone perché da 100 grammi è molto lungo mi sembra che sia 260 metri quindi come potete vedere con 3 gomitoli alla fine io sono riuscita a farmi sia uno smanicato che un Bactus e per una taglia M o L comunque si parla di un solo gomitolo per lo smanicato perché come potete vedere io non me lo sto stringendo in gola il Bactus mi va a largo quindi va benissimo anche se siete una taglia M o una taglia L però se invece del Bactus voi volete realizzarlo più largo quindi a farlo uno scialle o comunque un copricostume da poter utilizzare in vita allora vi consiglio due gomitoli per una taglia S tre gomitoli per una taglia M se lo volete fare come scusatemi per una taglia L se lo volete utilizzare come copricostume ma se volete fare uno scialle due gomitoli a seconda della taglia che siete vanno più che bene passiamo adesso invece alla lavorazione vi parlerò prima dello smanicato e poi anche del Bactus il Bactus cioè lo smanicato è semplicissimo perché come potete vedere sono due giri che vanno sempre ripetuti ma e sono due giri semplicissimi ma il bordino mi alzo così lo potete vedere un po' e come potete vedere anche qui sotto al seno c'è questa lavorazione che rende lo smanicato quindi un po' più particolare giusto per dargli ancora più movimento movimento già dato comunque dalle sfumature del colore del cotone del filato che ho utilizzato per quanto riguarda invece il Bactus è una lavorazione molto semplice anche questa sono due giri che vanno ripetuti e che danno vita a questa alternanza di gruppi di tre maglie alte quindi sono due lavorazioni semplicissime perché ho voluto far modo che questi modelli spicchino per le loro sfumature più che il punto che ho utilizzato e per quanto riguarda lo smanicato prima che mi dimentichi è un unico pezzo lavorato dal basso separato soltanto quando si va di vite le due parti avanti e la parte dietro e poi sono andata a rifinire la parte avanti lo scollo e gli scalfi con due giri di maglie basse che però non ho fatto anche sotto lo smanicato perché sotto mi piaceva comunque questa striscia di catenelle iniziali detto ciò oggi ho parlato veramente un casino ma le creazioni da vostra avanti erano due detto ciò spero che queste creazioni molto estive vi piacciono che desiate realizzarle e se è così poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina facebook Uncentando con Elsa o sul gruppo facebook La Libertà di Uncentare e Sferuzzare oppure potete taggarmi su instagram dove mi troverete come Elsa faccio e noi ci vediamo poi al prossimo video tutorial Per realizzare il nostro smanicato io ho deciso di utilizzare il filato della lana gatto linea milk shake il colore che ho scelto io è questo sfumato del color terra allora vi farò vedere come lavorare il punto su un campioncino e andiamo a realizzare due catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo salto 4 catenelle di base quindi una, due, tre e quattro entro nella quinta e vado a fare una maglia alta 2 catenelle di separazione 1 e 2 prendo il filo rientro nella stessa catenella di base vado a fare un'altra maglia alta 3 catenelle 1, 2, 3 prendo il filo salto 4 catenelle di base ricomincio da capo quindi entro nella quinta e di modo a fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1, 2, 3 prendo il filo salto 4 catenelle entro nella quinta e di nuovo a fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta 3 catenelle 1, 2, 3 prendo il filo salto 4 catenelle entro nella quinta e di nuovo a fare una maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta questo è quello che devo fare per tutto il giro termino il primo giro andando a fare una maglia alta nell'ultima catenella mi giro con la lavorazione vado a fare il mio secondo giro e vado a realizzare 3 catenelle che sono assa prima maglia alta prendo il filo vado nell'archetto di 3 di 2 catenelle vado a realizzare 3 maglie alte una due e rientro 3 catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare altre 3 maglie alte una due 2 e 3 prendo il filo vado nell'archetto successivo ricomincio da capo quindi vado nell'archetto di 2 catenelle salto qui e vado a fare 3 maglie alte 1 2 e 3 catenella di separazione prendo il filo rientro e vado a fare 3 maglie alte una 2 e 3 prendo il filo vado nell'archetto successivo ed inoltre maglie alte una 2 3 catenella di separazione prendo il filo rientro e di nuovo ad affare le mie 3 maglie alte una 2 e 3 e 3 ancora ultima volta vado nell'ultimo archetto e vado a fare 3 maglie alte una 2 e 3 catenella di separazione rientro 3 maglie alte una due e tre devo fare questo per tutto il secondo giro termino il secondo giro andando a fare una maglia alta all'interno della catena della terza catenella ho terminato così il secondo giro terzo giro o vi alzate con la con una catenella o come me andate direttamente nella maglia alta e fatto una maglia bassa 3 catenelle di separazione una due tre vado nell'archetto di una catenella che mi separa le maglie basse vado a fare una macchina che mi separa le maglie alte e vado a fare una maglia bassa questo che faccio adesso invece lo devo fare per tutto il terzo giro 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado direttamente nell'archetto di una catenella che mi separa le maglie alte vado a fare una maglia bassa e di nuovo 5 catenelle 1 2 3 4 5 vado nell'archetto di una catenella successiva e di nuovo ad affare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 5 e di nuovo vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa questo è quello che devo fare per tutto il terzo giro termina il terzo giro andando a fare 3 catenelle entro nella terza catenella che voleva la mia prima maglia alte vado a fare una maglia bassa ho terminato così anche il mio terzo giro mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto giro che consiste nel realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta catenella di separazione entro nella seconda delle mie 3 catenelle e realizzo una maglia bassa catenella di separazione vado doveva la maglia bassa e realizzo una maglia alta questo che vado a fare adesso lo devo fare per tutto il giro vedete che la lavorazione si stringerà un po ma l'effetto che io voglio perché questo è il bordino il quarto il quinto giro che andremo a fare sono i giri che andiamo sempre a ripetere fino ad arrivare a una certa altezza dove in pezzo intorno alla vita sotto al seno dove rifaremo il disegnetto qui che abbiamo realizzato per il bordino ma in maniera leggermente diversa quindi io vado a stringere un po la lavorazione in modo tale che lo mio smanicato sotto risulti un po ondulato non tantissimo giusto un tantino però per dare più movimento non farò sembrare troppo rigido quindi vado a fare una catenella di separazione vado nella terza catenella del gruppo di 5 e realizza una maglia alta catenella di separazione vado nella maglia bassa e realizzo una maglia alta catenella di separazione e si dicomincia da capo andiamo con la terza catenella del gruppo di 5 realizziamo una maglia bassa una maglia alta scusatemi Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta Ancora, catenella di separazione, vado dove ho la terza catenella e realizzo una maglia alta Catenella di separazione, vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta Quindi, questo è quello che devo fare per tutto il quarto giro faccio una catenella di separazione vado nella seconda del gruppo delle 3 catenelle vado a fare una maglia alta catenella di separazione vado dove ho la maglia bassa e realizzo una maglia alta ho terminato così anche il mio quarto giro mi giro con la lavorazione e va a realizzare il mio quinto e ultimo giro e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta vado dove ho la maglia di la catenella di separazione vado a fare una maglia alta vado dove ho la maglia alta realizza una maglia alta e continuo così per tutto il giro quindi dove ho la catenella di separazione vado a fare la maglia alta dove ho la maglia alta vado a fare una maglia alta ancora catenella di separazione vado a fare una maglia alta vado dove ho la maglia alta e vado a fare una maglia alta quindi devo continuare a fare questo per tutto il mio quinto giro sto per terminare il quinto giro vado a fare un'ultima maglia alta all'interno dell'archetto di una catenella e una maglia alta dove ho la terza catenella che qui aveva la mia prima maglia alta benissimo come vi ho detto adesso noi cominceremo dal quarto giro il quarto il quinto giro sono i giri che andremo sempre a ripetere fino ad arrivare o all'altezza della vita o sotto al seno devo ancora un po decidere e poi andremo a fare i primi tre giri ma in maniera diversa e naturalmente vi farò vedere come quindi mi giro con la lavorazione e vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta catenella di separazione salto una maglia alta entrano successive vado a fare una maglia alta catenella di separazione salto la maglia alta entro nella successiva e vado a fare una maglia alta catenella di separazione salto una catenella e una maglia alta entro una successiva e vado a fare una maglia alta quindi questi sono i due giri che andiamo sempre a ripetere il quarto che però qui abbiamo una maniera diversa cui fatto in maniera diversa perché abbiamo una base diversa e il quinto vi dirò naturalmente quante volte ripetuto il giro e poi farò rivedere come fare questo bordino più in alto e poi continuare lavorazione nel nostro smanicato allora ho ripetuto i due giri per 20 volte e il primo giro un'altra volta quindi due giri il primo il secondo per 20 volte e poi sono andata ripete il primo giro adesso rifacciamo il nostro motivo che abbiamo fatto in fondo all'inizio della nostra del nostro smanicato e andiamo quindi a lavorare in questa maniera ve lo faccio vedere perché andiamo a modificarlo leggermente e perché comunque abbiamo una base diversa rispetto a quello di prima perché prima avevamo le catenelle quindi andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta prendo il filo salto una maglia alta entro nella seconda e vado a fare una maglia alta 2 catenelle prendo il filo rientro nella stessa maglia di base vado a fare un'altra maglia alta catenella di separazione salto una maglia e di nuovo da fare il mio ventaglio quindi entrò nel successivo e vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 prendo il filo rientro e vado a fare una maglia alta catenella di separazione salto una catenella una maglia alta entrò nella successiva e di nuovo ad affare il mio ventaglio quindi maglia alta 2 catenelle rientro un'altra maglia alta catenella di separazione e continuo così per tutto il giro vi farò vedere come terminare come iniziare poi il secondo giro sto terminando il mio primo giro ho fatto l'ultimo ventaglio non faccio alcuna catenella di separazione ma entro direttamente nella terza catenella che qui voleva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta secondo giro mi giro con la lavorazione e anche in questo caso andiamo a modificarlo un po rispetto a quello che abbiamo fatto comunque qui all'inizio e andiamo a fare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta entriamo dentro l'archetto di 2 catenelle andiamo a fare 3 maglie alte quindi una rientro 2 rientro 3 catenella di separazione e questa volta andiamo a fare 2 maglie alte una e due la terza maglia alta la facciamo non chiusa quindi maglia alta non chiusa prendo il filo vado nell'archetto del ventaglietto successivo e vado a fare una maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alti insieme rientro nello stesso archetto vado a fare 2 maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione prendo il filo e di nuovo da fare 2 maglie alte una e rientro 2 prendo il filo rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa ma la faccio non chiusa e ricomincio da capo quindi vado nell'archetto successivo di 2 catenelle faccio una maglia alta non chiusa le chiudo insieme rientro e vado a fare altre due maglie alte una e rientro 2 catenella di separazione rientro vado a fare due maglie alte una e rientro 2 prendo il filo rientro e vado a fare una maglia alta non chiusa e ricomincio da capo quindi devo fare questo per tutto il mio secondo giro vi farò vedere come terminale come andare a fare poi il terzo giro allora sto terminando anche il mio secondo giro ho fatto le tre maglie alte vedete alla fine qui ho fatto le tre maglie alte normali quindi non quella non chiusa ho fatto una maglia normale entro nella terza catenelle vado a fare un'altra maglia alta terzo giro della nostro motivo e questo viene uguale a quello che abbiamo fatto in basso quindi rientro dentro la maglia alte faccio una maglia bassa 3 catenelle 2 3 vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa 5 catenelle 1 2 3 4 e 5 vado dove o la maglia bassa e c'era scusate in vado nell'archetto di una catenella e vado a fare una maglia bassa e di nuovo 5 catenelle e vado di nuovo nell'archetto successivo quindi qui la lavorazione è uguale a quell'altra e rifaremo poi di nuovo il primo e secondo giro quindi uguale a come avevamo fatto qui sotto ve lo faccio rivedere dovevamo fatto una maglia alta qui all'interno della seconda catenella catenella di separazione una maglia alta catenella di separazione maglia alta all'interno della terza catenella del gruppo di 5 quindi riprenderemo a fare questi due giri io vi dirò poi quante volte ho ripetuto questi due giri per arrivare a fare gli scarsi e poi vi farò vedere come metterò i marcatori per poter dividere la parte dietro dalle due parti avanti allora sono arrivata a mettere i marcatori io ripetuto i due giri per quattro volte 1 2 3 e 4 e poi sono andata a ripetere di nuovo il primo giro questo per dividere meglio le due parti avanti da quella dietro per poter dividere io ho fatto in questo modo ho messo 11 maglie alte sul davanti e nell'undicesimo messi il marcatore ho lasciato due maglie libere e sono andata a mettere il marcatore dietro stessa cosa da quest'altra parte 11 maglie alte libere nell'undicesimo messi il marcatore ho lasciato due maglie libere e sono andata a mettere il marcatore in questa maniera io dietro una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci unici 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 maglie quindi 27 maglie 11 avanti 22 ai lati per una taglia m io vi consiglio di andare a mettere invece di 11 andate a mettere 13 maglie sul davanti lasciando poi sempre due maglie libere e il resto dietro stessa cosa da quest'altra parte per una taglia è mandata mente 13 maglie 2 maglie libere il resto dietro per una taglia l invece di cui consiglio di mettere almeno 15 se non ha anche 16 maglie avanti 2 maglie libere e il resto tutto dietro e adesso andiamo a lavorare sempre i nostri due giri però naturalmente li andiamo a lavorare in una zona più piccola quindi adesso noi iniziamo di nuovo con il giro di maglie alte e andiamo a fare sempre 3 catenelle che sono sta prima maglia alta una maglia alta nell'archetto di una catenella una maglia alta nella maglia alta e vado a lavorare così fino ad arrivare al marcatore vi farò vedere come terminare e come andare a lavorare poi il giro successivo scusatemi tanto è molto semplice però ve lo faccio comunque e rivedere e continuerò a lavorare questi due giri fino ad arrivare all'altezza degli spalle quindi vi dirò quante volte ho ripetuto i due giri prima di arrivare all'altezza delle spalle andremo a fare poi la stessa cosa dietro e anche la stessa cosa dall'altro lato quindi stesso numero di giri per le parti avanti e per la parte dietro lasciando liberi questi due giri queste due maglie alte e i tre archetti che abbiamo proprio perché questo è uno smanicato quindi non devo andare a fare le maniche e voglio uno scatto per le mai per le braccia a largo quindi non stretto allora sto per arrivare quindi alla fine del mio giro quindi tolgo il mio marcatore e vado a fare la mia maglia alta mi giro con la lavorazione e vado a lavorare normalmente le mie 3 catenelle che sono la prima maglia alta e la catenella di separazione salto una maglia alta entrano successive vado a fare una maglia alta catenella di separazione salto una maglia catenella e quindi salto una maglia entra successiva maglia alta quindi lavoro normalmente i miei due giri e vi dirò alla fine quante volte sono andata ripetere giri per arrivare alle spalle ho terminato di fare i miei scalfi e ho ripetuto i due giri per cinque volte quindi ho fatto il mio secondo giro perché vi ricordo che ho messo i marcatori dopo aver fatto il primo giro e ho fatto il mio quindi secondo giro poi ho ripetuto i due giri per altri cinque volte una due tre quattro e cinque terminando quindi con il giro di maglie alte ma se siete una taglia m dovete terminare con i due il giro di maglia alta alternata una catenella non è un problema perché la cucitura viene bene lo stesso io direi quindi per una taglia in più comunque per una m di andare a far meno 23 g in più per una taglia l a meno 6 7 g in più rispetto a me ho fatto la stessa cosa anche da quest'altro lato e quindi sono andata a cucire le spalle adesso l'unica cosa che farò sarà rifinire con tutto il a bordo quindi qua lo scollo e il bordo avanti e dietro con un giro di maglie basse non so se farò la stessa cosa anche qui devo ancora decidere se farlo anche le maniche alle scalpe in quel caso comunque ve lo farò sapere per quanto riguarda il giro di maglie basse vi dico già che io andrò a fare una maglia bassa dove ho la maglia alto orizzontale una maglia bassa dove ho l'intarsio cioè questo piccolo forellino tra le due maglie alte orizzontali quindi semplicissimo e se farò la stessa cosa anche qui naturalmente però la stessa cosa sicuramente non lo farò sotto perché sotto mi piace che si veda la striscia di catenelle quindi sotto sicuramente non lo farò ma lateralmente all'apertura della giacca e sul collo si devo decidere se farlo anche sulle maniche o abbastanza filato però comunque per poterlo fare quindi alla fine vi dirò se l'ho fatto anche alle maniche dunque alla fine ho fatto due giri di maglie basse sia intorno a tutto lo scollo e la parte avanti sia intorno agli scalfi in mente come vi ho detto sotto la lascio senza perché mi piace questa striscia che si vede così non voglio andare a fare delle maglie basse quindi il nostro smanicato è terminato